Bruno Lucchi, scultore, ma anche come scoprirete poi durante il percorso mostra, artista di disegno perché i pannelli espositivi e grande artista di disegno con grande stupore perché dalla scultura si arriva tramite il disegno. Ci sono tantissime opere esposte, opere anche di grandi dimensioni come questa alle mie spalle, mentre invece in galleria ci sono opere di più piccole dimensioni. Qui potete trovare i bronzi, le terrecotte, le terrecotte patinate e anche in galleria ancora bronzi e alcune porcellane che si possono trovare anche qui, porcellane bellissime a tiratura limitata. La mostra dura fino all'8 giugno, ci sono anche due serate culturali e l'artista spero che interverrà anche durante queste serate culturali. Una la chiesa di Sant'Anna dove Mino Scandella è assessore alla cultura di Clusone e gentilmente si presta a farci questa presentazione e l'altra il 5 di giugno all'interno del museo, un sabato, un bellissimo concerto sinfonico con un soprano e un maestro concertatore. Ringrazio molto con grande cuore gli sponsor che hanno permesso anche questa volta per la quinta volta questo evento con la collaborazione doppia museo e galleria e vi aspetto tutti. Questa ormai di Clusone è diventato un appuntamento quasi d'obbligo, credo sia la quarta mostra personale che io faccio a Clusone, questa molto particolare in questo spazio meraviglioso che ho visionato prima di accettare di fare questa mostra perché il confrontarsi con il sacro non è molto semplice. Credo che le mie opere siano in sintonia e in armonia con questo ambiente. ho preferito presentare anche alcune opere che normalmente non presento in mostra come un ritratto di Padre Pio e un bozzetto per un'opera monumentale e mi è piaciuto presentare anche alcune delle nuove opere abbinate all'acciaio corten come questa che è il custode del Tempio che credo che in questo ambiente sia, come dire, veramente in sintonia. È costruito con questo acciaio nuovo, ci sono queste teste di androgino che fungono o sembrano un po' i sonagli dei templi buddhisti che servono a scacciare gli spiriti del male. E credo che anche noi abbiamo bisogno in questo periodo di tenerci lontano da questo tipo di malessere generale e entrare in sintonia con il nostro corpo che è veramente il Tempio.